Una raccolta di firme per salvare la biblioteca regionale di Giampaolo. Il traguardo da raggiungere per portare la petizione all'attenzione di chi conta è 2.500. Si firma sulla piattaforma change.org. Per difendere la biblioteca, minacciata dai pensionamenti e dalla mancata immissione di nuovo personale, scendono in campo nomi illustri della cultura, come la scrittrice Donatella di Pietrantonio, ma anche docenti universitari, associazioni, studenti e cittadini fruitori. Tutti convinti che la biblioteca non sia un mero contenitore di libri, ma un luogo del sapere organizzato, dove cercare informazioni e dove far incontrare cultura e società. Perché biblioteca significa anche servizi, spazi, laboratori, ludoteca per bambini, momenti di presenza qualificante sul territorio. Negli ultimi 4 anni 10 persone sono andate in pensione e ne restano solo un paio a gestire una biblioteca che è una delle più importanti della città, non solo della città ma anche per l'area metropolitana di riferimento. E oltretutto è in una zona che è compresa tra i quartieri di San Donato e Rancitelli, che chi abita a Pescara sa che sono quartieri che il Ministero definisce prioritari e complessi. Difendere la biblioteca è un atto concreto per riqualificare una parte importante della città di Pescara. La biblioteca vive anche per la professionalità di chi ci lavora dentro, non solamente per i libri che stanno negli scaffali. Chi conosce la biblioteca di Giampaolo sa che ha avuto un ruolo importante nella storia culturale della città, con le rassegne che ha proposto di teatro per ragazzi quando non lo faceva nessuno, con festival di musica, con l'attenzione al teatro di base, al nuovo teatro, con l'attenzione all'ampliamento dell'offerta culturale nelle scuole. Ecco, questo è la biblioteca. Ora io ho letto con un po' di scoramento quello che veniva detto sui giornali dall'assessore e dal suo staff. Cioè non è possibile pensare che cinque persone comandate da altri enti in tutta la regione, non per la biblioteca di Giampaolo, ma in tutta la regione, siano una risposta credibile al problema posto della carenza di personale.